Introduzione. Dave Eggers è uno scrittore e attivista americano, conosciuto per la sua narrativa avvincente e il suo impegno sociale. Nato a Boston, Massachusetts, Eggers ha iniziato la sua carriera letteraria con un'opera che avrebbe segnato profondamente il panorama letterario contemporaneo. La sua influenza si estende oltre la scrittura, avendo fondato la casa editrice indipendente Max Sweeney's e l'organizzazione No Profit 826 Valencia, che offre programmi di tutoraggio per giovani scrittori. Attraverso queste iniziative, Eggers ha contribuito a coltivare una nuova generazione di scrittori e pensatori critici. Il suo lavoro, caratterizzato da un'acuta osservazione sociale e una profonda empatia, continua a risuonare con i lettori di tutto il mondo. Visione filosofica di Eggers La visione filosofica di Dave Eggers si articola attraverso una critica penetrante delle dinamiche sociali contemporanee. Egli esplora temi come la privacy e la sorveglianza, interrogando le implicazioni etiche di un mondo sempre più monitorato. La sua preoccupazione per la perdita di libertà individuale nell'era digitale emerge chiaramente nelle sue opere, dove la tecnologia non è solo un progresso, ma anche una potenziale minaccia. Eggers mette in discussione la moralità delle aziende tecnologiche, esaminando come queste influenzino profondamente la società. Attraverso una narrazione coinvolgente, stimola una riflessione critica sui valori e le scelte della nostra epoca, offrendo al lettore uno specchio nel quale riflettere sulle proprie responsabilità etiche. Stile di scrittura Lo stile di scrittura di Dave Eggers si distingue per la sua chiarezza e immediatezza. Utilizza una prosa diretta e spesso ironica, capace di rendere temi complessi accessibili e coinvolgenti. Le sue narrazioni intrecciano storie personali con temi universali, creando un legame profondo tra il lettore e i personaggi. Eggers è abile nel costruire strutture narrative che tengono il lettore incollato alla pagina, alternando momenti di grande tensione emotiva a riflessioni profonde e significative. Questo equilibrio tra accessibilità e profondità fa delle sue opere delle letture non solo piacevoli, ma anche illuminanti, capaci di stimolare la mente e il cuore. Opere principali Tra le opere principali di Dave Eggers spicca A Heartbreaking Work of Staggering Genius, un memoir semi-autobiografico che ha ricevuto ampi consensi per la sua originalità e intensità emotiva. Seguono What is the What, un romanzo basato sulla storia di un Lost Boy del Sudan, che mescola fiction e realtà in un racconto struggente e potente. Zaytun affronta le ingiustizie subite da un siriano-americano dopo l'uragano Katrina, mentre The Circle offre una critica distopica della cultura della sorveglianza e della perdita di privacy. Infine, The Every continua ad esplorare i temi del controllo tecnologico, approfondendo le implicazioni etiche e sociali di un mondo dominato dalle grandi aziende tecnologiche. Contesto contemporaneo Dave Eggers emerge come una voce critica nell'era dell'eccessiva dipendenza dalla tecnologia. Le sue opere risuonano con le preoccupazioni attuali riguardanti la privacy e l'etica delle aziende tecnologiche. Utilizzando la narrativa, Eggers stimola una riflessione sul futuro della società, interrogando le dinamiche di potere e controllo che caratterizzano il nostro tempo. La sua capacità di intrecciare storie personali, con temi universali, offre al lettore uno spunto per considerare le proprie posizioni e responsabilità in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso. Temi filosofici, né il cerchio. Né il cerchio, Dave Eggers esplora la sorveglianza onnipresente come strumento di deterrenza per la criminalità, criticando al contempo la nozione di privacy come furto di informazioni. La condivisione totale delle conoscenze emerge come un tema centrale, con l'idea che tutta la conoscenza debba essere accessibile a tutti. Eggers pone una forte enfasi sull'etica tecnologica, interrogando la responsabilità delle aziende nel modellare il comportamento umano e le implicazioni di un mondo dove ogni azione è monitorata e valutata. Altri temi filosofici. Oltre alla sorveglianza, Eggers esplora l'autenticità come sostituto morale della religione e la quantificazione del valore umano attraverso punteggi morali e sociali. La libertà individuale è un altro tema cruciale, messa a rischio dalla sorveglianza costante. Eggers analizza anche il globalismo, evidenziando come le grandi aziende tecnologiche influenzino la vita quotidiana a livello mondiale. Questi temi filosofici invitano il lettore a riflettere sulla propria libertà e autenticità in un mondo sempre più monitorato. Temi né The Avery. In The Avery, Eggers approfondisce il tema della trasparenza come strumento per raggiungere l'uguaglianza, eliminando i segreti e rendendo le informazioni universalmente accessibili. Esamina la trasformazione sociale causata dalle tecnologie e l'adattabilità umana a queste nuove realtà. Un altro tema centrale è l'intelligenza artificiale, con una riflessione critica sulla creazione di arte e narrativa tramite algoritmi e la produzione standardizzata dell'arte. Eggers invita i lettori a interrogarsi su come queste dinamiche influenzino la creatività e l'umanità. Potere delle aziende tecnologiche. Le aziende tecnologiche, secondo Eggers, esercitano un'influenza culturale determinante, stabilendo nuove norme sociali e culturali. Gestiscono anche problemi globali come il cambiamento climatico, sollevando questioni etiche riguardanti il concetto di dominio benevolo del mercato. Eggers critica l'idea che il mercato possa agire come forza benevola, suggerendo invece che il potere concentrato in poche mani possa avere conseguenze dannose per la società globale. Conclusione. Dave Eggers è un autore che unisce narrativa avvincente e critica sociale. Le sue opere non solo offrono un valore letterario eccezionale, ma contribuiscono anche in modo significativo al dibattito sull'etica tecnologica. Eggers stimola una riflessione sulle sfide dell'era digitale, come la privacy e la libertà individuale, invitando i lettori a considerare le implicazioni delle loro scelte in un mondo sempre più digitalizzato. La sua voce critica è essenziale per comprendere le complesse dinamiche del nostro tempo.